Tuttavia lo show di Evaristo Beccalossi vale da solo il prezzo del biglietto e merita il bis. Slalom, botta millimetrica ed è 1-0 dopo soli 5 minuti. Rivediamo il bel gol di Beccalossi. Dicono che Beccalossi sia un tantino egoista e allora come si spiega questo delizioso invito di collo sinistro? Roasca fa bella figura e sigla il raddoppio, è il ventesimo. Ma qualcuno non ci crede visto il mezzo regalo che il direttore di gara dispensa all'omonimo. Calcio di rigore e spillo non buca.